Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un argomento molto interessante e controverso, la spunta blu per Instagram a pagamento. Cos'è la spunta blu? È un simbolo che compare accanto al nome utente di alcuni profili su Instagram e che indica che il profilo è verificato, cioè che appartiene a una persona famosa, a un'organizzazione o a un marchio riconosciuto. La spunta blu serve a distinguere i profili autentici da quelli falsi o imitatori e a dare maggiore credibilità e visibilità ai contenuti pubblicati. Ma come si ottiene la spunta blu? Fino a poco tempo fa, l'unico modo per avere la spunta blu era quello di essere selezionati da Instagram in base a dei criteri di notorietà, autenticità, unicità e completezza del profilo. Non era possibile richiedere la spunta blu direttamente, ma bisognava aspettare che Instagram decidesse chi meritava di averla. Questo ha creato molta frustrazione e invidia tra gli utenti che volevano avere la spunta blu ma non rientrava. Ma ora le cose sono cambiate. Da qualche mese, infatti, è possibile acquistare la spunta blu per Instagram a pagamento. Come funziona? Semplice. Basta andare su un sito web che offre questo servizio, scegliere il pacchetto che si preferisce, pagare con carta di credito o PayPal e attendere che il profilo venga verificato. Il costo della spunta blu varia in base al sito e al pacchetto scelto, ma si aggira intorno ai 100 a 200 euro. Il servizio promette di garantire la spunta blu entro 24 a 48 ore dalla richiesta e di offrire. Assistenza e rimborso in caso di problemi, ma è davvero così facile e sicuro? La risposta è no. Acquistare la spunta blu per Instagram a pagamento è una truffa e una violazione delle norme di Instagram. Innanzitutto, non esiste nessun sito web autorizzato da Instagram a vendere la spunta blu. Si tratta di siti fasulli che sfruttano l'ingenuità e la voglia di popolarità degli utenti per rubare i loro dati, personali e i loro soldi. Quindi, il mio consiglio è di non cadere nella tentazione di comprare la spunta blu per Instagram a pagamento. Non solo si rischia di perdere soldi e dati personali, ma si rischia anche di perdere la fiducia e il rispetto dei propri follower ed Instagram. La spunta blu non è tutto. Ci sono altri modi per far crescere il proprio profilo su Instagram in modo organico e autentico. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se avete domande o commenti, lasciateli qui sotto. Se volete vedere altri video su Instagram o su altri argomenti, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche. Grazie!